A potenza danni dovuti al maltempo con abbondanti piogge che hanno causato nel tardo pomeriggio di mercoledì la frana di un tratto di strada in via 30 Carlini alla periferia est del capoluogo Lucano, allertati sul posto intervenuta la polizia locale e di vigili del fuoco, supportati dall'intervento di unità cinofile per avere la certezza che nessuno sia poi stato travolto dal fango e dai detriti. L'evento ha portato al collasso di un muretto di cinta con fronte di circa 20 metri. L'area nei pressi del rione Betlemme è stata presidiata e interdetta in via precauzionale al traffico, oltre ai volontari della protezione civile comunale presente a verificare l'accaduto anche il sindaco Mario Guarente il quale ha disposto lo sgombero di alcune abitazioni dove vivono una ventina di persone. La frana, dichiarato a margine, ha coinvolto una strada privata a monte con ripercussioni su quella pubblica sottostante, le persone sgomberate sono state ospitate in alcune strutture cittadine.